Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia alle spalle che mi ha sempre protetto, mi ha sostenuto. E' Salvatore Esposito il personaggio mugnanese dell'anno, premiato l'attore che interpreta Jenny Savastano in Gomorra, nato e cresciuto a Mugnano. Un orgoglio per la cittadina e un esempio per molti giovani di periferia che rincurrono i propri sogni. Il premio personaggio dell'anno al mugnanese più illustro, il mugnanese più famoso, che testimonia una grande storia, la storia di riscatto, che ciascuno di noi, veramente ciascuno di noi, anche partire da una periferia come quella di Mugnano, una città piccolina, un piccolo paese, può diventare perché no, con tanto lavoro, con tanta fatica, con tanta dedizione, una star internazionale. Spero veramente di poter fare tante cose insieme per poter salvare i ragazzi. Salvatore Esposito adesso è uno degli attori più amati, da Mugnano al tetto del mondo, ma il protagonista di Gomorra è sempre grato alla sua città. C'è una strada, che c'è la possibilità di sognare, perché spesso quello che ti tolgono, che ti toglie la criminalità, che ti toglie la povertà, anche perché quella è una delle fonti principali, è la possibilità di sognare. Se tu sogni, vivi in un mondo altro, sogni in grande, e quindi quello ti spinge a cercare sempre il meglio. Però a volte io mi chiedo quanta volontà c'è nell'estirpare questo cancro, perché uno si chiede, ma come è possibile che tutti sanno, ma nessuno fa niente, come con Gomorra, all'inizio tutti dicevano, ah beh, si raccontano cose che tutti sapevano, ma tu che hai fatto?